I professori di filosofia, lì facciamo un po' abbassare la cresta, perché avevo una professoressa che diceva quelle frasi assurde tipo e qui Socrate si sbagliava, cioè tu professoressa Miciche, dei cani catti, contraddici Socrate. Qui in maggio Socrate all'aldilà quando vi incontrate dicevo, vuoi stessi venire qua e faccio un curcetto, è brutto. Però la filosofia funziona così, cioè ogni filosofo che studi contraddice sempre quello precedente, che adesso tu studi Aristotele, Aristotele contraddice Talete. Poi la mia professoressa diceva, spesso si contraddicono perché non si capiscono. Quindi che so, Hegel ha contraddetto Kant perché non l'ha capito appieno, Freud ha contraddetto Hegel perché non l'ha compreso. Poi ti interroga, dice, ma lo spieghi Kant? Minchia, non l'ha capito Hegel! Lo devo capire, io lo devo capire, cioè mettetevi d'accordo.